Dalle 4.30 di questa mattina presto gran parte di Villa Mosca, soprattutto la parte alta di Villa Mosca, è rimasta senza illuminazione. Nessuno dell'Enel Distribuzione è in grado di fornirci spiegazione a tal proposito. Siamo stati sul posto nella cabina che è sottoposto a sistemazione da parte di alcuni operai e non ci hanno voluto assolutamente spiegare che cosa sia accaduto. Come se non fosse nostro interesse da cittadini ma anche da giornalisti entrare in possesso di queste informazioni. Ci dicono ma non è cosa ufficiale che è andato bruciato un trasformatore. Ci hanno riferito alcuni operai presenti qui sul posto, ripetiamo, a Villa Mosca, parte alta, davanti alla parrocchia, davanti alla chiesa, che è stato installato un gruppo elettrogeno, il che fa pensare che la sistemazione sia del tutto precaria e temporanea. Il guasto sembra importante. Nel forno e tanto meno il supermercato hanno potuto funzionare al meglio. Addirittura il forno non ha proprio aperto proprio a causa di questo grave guasto che ha creato disagi a tutti i residenti. Se non fosse altro perché molti studenti sono in smart working e anche diversi dipendenti. Di più non vi possiamo riferire in quanto anche gli stessi operai si sono particolarmente disturbati dalle domande che abbiamo posto e non ci hanno voluto fornire spiegazioni ufficiali.